guarda che corne belle però non hai visto quelle di gaia perfette il diabete infantile richiede il controllo costante della curva glicemica ovvero il valore degli zuccheri nel sangue oggi con night scout è possibile farlo anche a distanza attraverso il sensore i valori glicemici vengono inviati a tablet smartphone o computer il sistema night scout è molto semplice e completamente gratuito per configurarlo ti guida la onlus db italia a tua disposizione per aiutarti in qualsiasi momento con night scout più sereno tu più libero il tuo bambino